Sono stati circa 80.000 carabinieri con le loro famiglie arrivati a Verona nel fine settimana per il 24esimo raduno dell'Associazione Nazionale. Tante manifestazioni dall'alza bandiera in piazza Bra con la deposizione di una corona al monumento dei caduti, all'esposizione delle auto storiche e dei mezzi più moderni. Cosa vuol dire essere a Verona in questa occasione? Vuol dire tante cose, intanto vuol dire ritrovare tanti colleghi che nel tempo uno ha perso perché si gira per l'Italia, perché si va in congedo, perché si fanno altri lavori. Poi vuol dire ricordare nuovamente quello che siamo, una grande famiglia che a prescindere dal percorso individuato di ognuno porta poi una volta ogni due anni a riunirsi tutti per festeggiare e per esprimere l'orgoglio di fare parte di una famiglia che è anche un'istituzione e che è un'istituzione che è nata prima dell'Italia e che si onora di poter seguire l'Italia, la sua cittadinanza, le sue istituzioni, anno dopo un anno, al solo scopo di prestare servizio, adempiere il proprio dovere e cercare di fare il bene della collettività. Pur se non sempre ci si riesce al massimo, anche se talvolta qualcuno può sbagliare, ma quello che dimostra una riunione come questa è la solidità di un'arma che nel tempo è capace di innovare le proprie tecnologie, le proprie procedure, ma che nel tempo è capace di mantenere se stessa. Toccante presso il monumento al carabiniere, la scopertura della targa dedicata ad Enrico Frassanito, carabiniere rimasto ucciso in seguito all'attentato di Nassiria in Iraq. La nostra famiglia è, come dicevo prima nel discorso, un atto un po' duro da sopportare, però sicuramente bellissimo per quello che lui ha trasmesso con questo suo sacrificio. Secondo me è una cosa veramente eccezionale quella che lui ha fatto. Il suo sacrificio secondo me è stato veramente unico e per questo e pertanto io sono orgoglioso, come dicevo prima, di aver partecipato a questa cerimonia. Ringrazio tutti per aver partecipato. Accanto ai vari eventi, anche il momento della celebrazione eucaristica con la messa celebrata nella Basilica di San Zeno, Il ventiquattresimo raduno dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri è stato vissuto con grande partecipazione da moltissimi veronesi. Chi ha fatto carabiniere resta carabiniere tutta la vita e quindi l'Associazione Nazionale Carabinieri continua a svolgere dei servizi a favore degli italiani, quale la protezione civile, il volontariato generico e quindi continuare a servire gli italiani e la patria come facevamo prima. Un grazie particolare alla città di Verona, all'amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Verona che ci hanno accolto benissimo in questa splendida città. Cosa vuol dire fare il carabiniere oggi? Vuol dire avere la gioia di servire gli altri e di stare in mezzo alla gente.